Verranno varie scelte, varie scelte, perché ho visto un catalogo stupendo, le creazioni sono bellissime, le collezioni straordinarie. Quindi vi raccomando, visitate Intime Passioni a Cancello e Darnone. Benissimo, e allora siamo prontissimi per presentarvi le sfilate di Intime Passioni e... Rosso Rubino! Eccoli qua, e' ma per i Intime Passioni sono bellissime, Rosso Rubino fa delle cose veramente meravigliose. Sì, vedi i vestiti, le collane... Le cose belle, veramente, sono simpatici, Rosso Rubino, Intime Passioni... Ehi Alle 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 đây fazi la domanda... Ehi Alle 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 guideline... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.